Presidente Ipsos, con te vediamo sempre un po' quello che pensano gli italiani. In apertura di trasmissione questa sera c'è stato Giuseppe Conte, abbiamo parlato della contrarietà del Movimento 5 Stelle all'aumento della spesa per la difesa fino al 2% entro il 2024. Conte ne ha parlato con Draghi, ma gli italiani in questo momento da che parte stanno? Cioè se andassero a votare, chi voterebbero? Ci sono i dati più recenti che abbiamo, che condividiamo con voi questa sera e che lo vediamo con il cartello 1, vedono al primo posto Fratelli d'Italia che ha avuto una crescita forte nell'ultimo mese, si colloca al 21,5% delle preferenze, precede il Partito Democratico che è al 20,9% stabile rispetto al mese precedente, inflessione la Lega al 17,5%. Sottolineo un dato che mi sembra interessante, nei mesi dell'autunno scorso queste tre forze politiche erano sostanzialmente appaiate, separate da pochi decimali. La Lega sta perdendo un po' terreno, così come anche il Movimento 5 Stelle che è al quarto posto col 14,5% è un po' in flessione e poi abbiamo Forza Italia e la federazione tra azioni di calenda e più Europa di Amabolino con il 3,6%. Queste sono le uniche forze che allo dato attuale, sulla base di queste intenzioni di voto, superano la soglia di sbarramento del 3%. Con il cartello successivo vediamo le altre forze. Vediamo appunto Italexit, la forza politica di Gianluigi Paragone con il 2,3% che precede Italia Viva 2,1%, Europa Verde, Verdi al 2%, Sinistra Italiana 1,6%, Articolo 1 MDP 1%, 4,9% tutte le altre liste, un dato però va sottolineato il 40,6% oggi dichiara di volerci astenere o di essere indeciso. Non a caso si dice che questo sia, come posso dire, il partito più importante, il partito più grande oggi in Italia, l'astensionismo e l'indecisione. E poi ancora, con il cartello successivo, possiamo vedere l'aggregazione delle diverse forze che abbiamo appena visto e quindi se consideriamo il centro-destra, composto dalle tre principali forze, quindi l'Italia, Lega e Forza Italia, arriva al 47,1%. Il centro-sinistra allargato, il cosiddetto campo largo, arriva al 45,7%. Se però consideriamo l'alleanza giallorossa, che era la coalizione che aveva sostenuto il precedente governo guidato da Conte, escludendo però Italia Viva, arriva al 38%. Quindi una situazione di relativo equilibrio nel momento in cui ci dovrebbe essere un'alleanza larga, viceversa se ci fosse un'alleanza giallorossa, il vantaggio del centro-destra sarebbe molto elevato.